Carissimi, buongiorno, buongiorno. Sono il dottor Stefano Manera, medico chirurgo, specialista in anestesia e rianimazione. Questa mattina mi è stato mandato un video del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha fatto un discorso in una manifestazione estiva. L'ho ascoltato, sono rimasto assolutamente esterefatto nell'ascoltare queste parole e mi piacerebbe commentarle insieme a voi e nel frattempo anche mandare un appello al governatore Zaia. Cominciamo col dire che il Covid si cura a casa. Questo virus, sapete, ha una caratteristica, questo lo sapevamo del primo giorno. Non è l'ebola che ammazza l'ospite, no? Il virus dell'ebola ammazzava 9 persone su 10. Il Covid ha una bassa mortalità, brutto da dire, ma è così. Questo lo sapevamo del primo giorno. Il Covid ha una bassa mortalità, brutto da dire, ma è così. Brutto da dire, ma è così. Il virus che ha bassa mortalità, letalità, è un virus che tiene in vita l'ospite, cioè non lo ammazza. Perché? Perché deve replicarsi. Noi abbiamo dovuto battagliare non poco, ad esempio, con le fake news, con le disinformazioni. Lo dicevo spesso sia a Conte, ma poi l'ho detto anche al governo Draghi. Noi non possiamo abdicare al ruolo di informare in maniera ufficiale, corretta, i cittadini. Perché si vedeva quest'onda che cresceva nei social media, tutte le terapie alternative, tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo visto uno spaccato veramente di un paese che a volte dà un'espressione che è il peggio di sé. Io ho il rispetto delle idee di tutti. Se una persona non si vuole vaccinare, io ho difeso la volontarietà vaccinale. Se tu non ti vuoi vaccinare, io ti rispetto. Ma chi si vuole vaccinare deve essere lasciato in pace e deve riuscire a arrivare in un centro vaccinale? Ve lo dico perché oggi vedo tanto dibattito sulla mascherina. Si abbia almeno il buon gusto e il rispetto di capire che intanto se una persona vuole portare la mascherina ha il diritto di portarla. Ma poi ricordatevi, cari Novax che fate le prediche a chi vedete con mascherina, che a volte la mascherina si porta perché si è avuto un cancro, perché si è avuto un trappianto di midollo. Cari Novax che fate le prediche a chi vedete con mascherina. Sono esterefatto nell'ascoltare questo video, nell'ascoltare le dichiarazioni del governatore. Prima di tutto Zaia asserisce, e lo fa all'inizio, che il covid si cura a casa e sostiene sostanzialmente, lo dice con una tale sicurezza, come se lo avesse sempre detto. Allora vorrei ricordare, caro governatore, che siamo stati noi, io e qualche altro medico, qualche altro medico a dire dal 2020 che il covid si curava a casa. L'abbiamo detto e siamo stati per questo motivo emarginati. Siamo stati indicati come degli eversori, come delle persone di scarsa credibilità, di scarsa fiducia, dei diffusori di fake news, eccetera, eccetera, con offese per lo più sempre molto pesanti. Noi dicevamo che il covid si curava a casa. Voi non l'avete mai detto. Voi avete detto sempre, la vostra narrazione è sempre stata esattamente il contrario. Quello che dicevate voi, caro Zaia, era che il covid non si curava a casa e che soltanto contagiarsi dal virus SARS-CoV-2 avrebbe causato morte certa. Non l'aveva detto solo lei, governatore, nelle sue innumerevoli dirette, ma lo sosteneva il governo Conte e l'ha sostenuto con forza, con veemenza e con violenza direi anche il governo Draghi. Dice poi anche che il virus ha una caratteristica e sostiene, lo sapevamo sin dal primo giorno, che non è l'ebola. Anche questo è falso perché noi dicevamo che il virus non è l'ebola e che è curato e qualora fosse curato, tempestivamente le persone sarebbero guarite. Voi non dicevate e non avete mai detto questo, non avete mai sostenuto questa tesi. Non avete mai sostenuto questa tesi. Tanto è vero che noi, quando nell'aprile del 2020 scrivemmo un appello al Ministro Speranza, in cui chiedevamo che fosse diffusa la possibilità di utilizzare in ambiente extraspedaliero il cortisone proprio per andare a spegnere l'infiammazione e quindi salvare una marea di vite, ebbene a quell'appello non c'è mai stata risposta, non ci avete mai risposto a livello istituzionale, mai, mai risposto a livello istituzionale. Poi va avanti, va avanti in questo continuo parlare, a ruota libera, dicendo che il Covid ha una bassa mortalità. Anche questo lo sapevamo e anche questo l'abbiamo sempre detto. Che cosa, caro governatore, aveva e ha tuttora un'alta mortalità? Quello di lasciare le persone a casa, a cuocere nella loro febbre e nella loro infiammazione senza possibilità di cure. Che cosa è gravato da un'alta mortalità? L'alta mortalità è data dai protocolli ministeriali, cioè vigile attesa e paracetamolo. Questo determina l'alta mortalità, non il virus in sé, lo dicevamo noi dal primo giorno, non voi. E poi sostiene una frase che non ho capito bene, mi piacerebbe che lei la potesse spiegare chiaramente. È brutto da dire, ma è così. È brutto da dire che il Covid abbia una bassa mortalità, ma è così. In che senso avreste voluto che il Covid avesse un'alta mortalità, appunto come l'Ebola? Questo non è chiaro. Non mi è chiaro perché dice è brutto da dire. Poi continua dicendo che ha dovuto battagliare contro le fake news, dato che il compito istituzionale era quello di informare. Quali sono le fake news? Le fake news mi sembra che sia chiaro che sono state quelle che le istituzioni hanno voluto diffondere. Almeno questo è quello che sta dicendo lei. Lei sta dicendo esattamente che il Covid si cura a casa, sono sue parole mi pare, che ha la caratteristica di non essere l'Ebola, di avere una bassa mortalità, eccetera, eccetera. Noi lo dicevamo, noi dicevamo questo e siamo stati etichettati come diffusori di fake news. Ora lei lo sostiene, allora le chiedo quali sono quindi queste fake news. E quindi il vostro compito non è stato quello di informare. Mi viene il dubbio che il vostro compito o il vostro obiettivo sia stato proprio quello di disinformare. Sostiene anche che ha difeso la volontarietà vaccinale. Beh, questo mi sembra veramente un insulto, visto tutto quello che è successo, visto la politica sulla campagna vaccinale, sull'obbligatorietà vaccinale, eccetera, eccetera. I vaccini sono stati resi obbligatori per la stragrande maggioranza della popolazione. Chi non si vaccinava non poteva lavorare, veniva immarginato dal consenso sociale. I medici sono stati sospesi, gli insegnanti sono stati sospesi, i sanitari in genere sono stati sospesi, gli avvocati non potevano entrare nei tribunali, i poliziotti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non c'è mai stata una volontarietà vaccinale. Voi non l'avete difesa nella maniera più assoluta. Voi non avete mai neanche provato a difendere la sacrosanta volontarietà vaccinale, che poi è sostanzialmente la sacrosanta libertà a avere su di sé una determinata terapia. Nessuno di noi ha mai criticato, ha mai condannato, ci mancherebbe altro, chi voleva liberamente vaccinarsi. Quello che noi facevamo e quello che noi dicevamo e che diciamo ancora oggi, almeno io lo dico ancora oggi, è di essere contrario all'obbligo vaccinale in questo, chiaramente in questo ambito. Dopodiché chiude, chi osa, questo breve video che è stato estrapolato da una sua presenza in una manifestazione di pochi giorni fa. Cari Innovax, che fate le prediche? Innovax, credo che per quanto sia orribile questo termine di Innovax, coniato, ricordiamolo un'altra volta, da voi, quindi dalle istituzioni, da coloro che a suo dire si sono difesi, hanno combattuto per la volontarietà vaccinale, contro le fake news, eccetera, eccetera. Avete coniato il termine Innovax e avete creato una divisione sociale come prima, forse non c'è mai stato, non c'è mai stata prima d'ora una divisione tale, con un odio tale, con una campagna di odio, di denigrazione. Innovax, che fate le prediche? I Innovax non fanno prediche a nessuno, non ho mai sentito nessuno fare prediche, anche perché non esistono sostanzialmente. I Innovax sono una creazione fatta da persone che avevano e che hanno tutti gli interessi per creare una categoria e per discriminare, per creare una divisione sociale. Caro governatore Zaia, non ci siamo. Non ci siamo perché dice cose che non corrispondono a verità, dice cose che proprio fanno parte di un altro mondo. Io non so perché ora sostiene questo, ma ha sempre sostenuto lei e il governo che lei e il suo partito avete appoggiato hanno sempre sostenuto esattamente il contrario. E questo è molto grave. Questo è molto grave perché la popolazione italiana ha creduto chiaramente a quello che avete detto per due anni abbondanti e i risultati sono stati drammatici. Quindi governatore, prima di andare nelle piazze a sostenere queste tesi e a raccontare queste cose che non corrispondono assolutamente a verità, io francamente farei un bagno di umiltà e chiederei scusa. Inizierei a chiedere scusa a lei e tutti i suoi colleghi facendo parte delle istituzioni. Chiederei scusa alla popolazione italiana che ha creduto alle vostre parole che ha creduto fino in fondo alle vostre parole e oggi sta pagando un prezzo davvero insostenibile.